L'assessorato al lavoro guidato da Elena Chiorino mette in campo percorsi formativi personalizzati rivolti ai circa 20.000 percettori del reddito di cittadinanza firmatari del patto per il lavoro sugli 80.000 percettori complessivamente presenti sul territorio regionale. La misura è finanziata per 4 milioni di euro. Per il presidente della regione Cirio il reddito di cittadinanza serve ad aiutare chi non può, non chi non vuole. Per questo, sottolinea, abbiamo attivato un meccanismo che coinvolgerà chi lo percepisce in percorsi di formazione a supporto della ricollocazione lavorativa. Attraverso i centri per l'impiego, l'ente strumentale dell'assessorato al lavoro, metterà in campo il progetto in sinergia con le agenzie formative accreditate dalla regione, prevedendo percorsi di apprendimento. Per l'assessore Chiorino il reddito di cittadinanza è una misura che non aiuta a trovare lavoro e quella varata dalla regione è una misura indipendente da quella del governo. Le novità si traduce nell'obbligatorietà della formazione con un doppio obiettivo, perché seriamente in cerchi di lavoro si forniscono degli strumenti personalizzati per facilitare la ricollocazione e l'incrocio fra domanda e offerta, ma nel contempo si traduce in una stretta nei confronti dei furbetti, che nel frattempo lavorano in nero.